BABAH BLA BABABABAH BLA BABABABAH BLA BABABABAH Ciao a tutti ragazze e benvenuti in questo nuovo video, io sono Carlitos e oggi siamo qui nella nuova SuperNabin Fenomeni Il fenomeno in questione sono io, Garlitos A bordo del mio BDR G1 Tanto amato, cazzo Questa ragazzi è una delle tante partite Che vi fanno capire quanto cazzo è forte questo carro Vediamo, siamo sulla mappa Windstorm Insieme ad Andreone Lui è con l'OEXP, livello 5 Pesante, cinese se non erro No, giapponese, giapponese Guardate che bestia in confronto al BDR Non siamo top tier purtroppo Infatti dovremmo cavarcela Andre ci fa già la sua prima kill Sti cazzi, ora Andre, questa è la mia fenomeno Non la tua, di lì in fondo c'è Un A43, arriva anche un Elkhart Eeeh Andrace si porta a casa la sua seconda kill Qui attacchiamo di brutto Si attacca di brutto Io decido di andare verso il centro Vediamo un po' PZSFL4 Preso e ucciso tutto Mamma mia, che botta ragazzi Che botta, l'ho quasi one shotato C'è anche un su 100 Uuuuh, se ne va via Bene Inizio di partita abbastanza mediocre Non ho fatto granché La nostra squadra sta attaccando di brutto Anche se loro in città stanno andando molto molto veloci Vediamo qui con Andraccia facciamo l'attacco a due Lui da un lato, io dall'altra Qui c'è un Kito Ah, interessante Il Kito vuole le botte Si, si prende le prime 230 di danni Oh, boom Preso Mi ha fatto anche lui, maledetto Eh, però se il rispunto è morto Se il rispunto è morto Eccolo qui Vuole danni E spatouf Ciao bello Il Kito ci riprova a farmi Fa anche i cingoli, vacca miseria Intanto abbiamo già 880 danni Effettuati Diraccio uno scuola T24 Vediamo se riesco a prenderlo Oh Ole Dalla lontananza con la casina nel mezzo Eeeh, cazzata Liscio Carlone, liscio Scuola T24 non mi sta cagando Oh Tiro al volo Oh, così Preso Senza grossi problemi C'è proprio che in questa battaglia A parte il Kito Non mi danno grossi problemi Quasi nessun carro, eh Lì c'è un G1R Il livello medio Il carro medio di livello 5 Francese Eeeh, qui si becca una bella botta da 250 Eeeh, BDR contro BDR Anche se quello è G1R se non erro Sì, infatti è G1R Però sono simili come carri Quello è un carro medio Però Oh Uuuuh Dalla lontananza Preso 4 G1R per Carlone 1400 danni Effettuati Qui dovrebbe spuntare anche un VK3002 Qui mi fermo per aspettarlo Se non erro Vediamo un po' Oh La A43 li va dietro E questa è una buona cosa per me Eccolo Miro automatica Boom Morto Ero quasi sicuro che l'avrei bucato Ora mancano un OI E un KV1 E un Lux Hmm L'OI Mi dà quanto filo da torce Secondo me Eccolo l'OI Qui c'è un Lux Vediamo un po' se si riesce a beccarlo Cazzo c'è l'OI L'OI Poi quello è il livello 6 Cazzo Quello fa tantissimo male Qui cerco di andare a nascondere tra le casine Oh Vediamo se si becca Lux qui Eeeh Sì Il Lux lo si piglia tutto Haha 6 kill ragazzi 6 kill 1700 di danni Oh cazzo L'OI 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 Via 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 Minca che culo Minca che culo Siamo riusciti a scappare da lui Ora vediamo chi sta mirando Non sta mirando me Attenzione Questo io è un po' pirla E io gli assesto un po' di colpi sul lato Dato che è piatto Lo si buca senza Grosso problema Ole Boom Preso un altro 2189 di danni Cazzo ragazzi Questo BDR Vedete Non mi cagano Boh io non so perché Ma lui non mi cagava Qui c'è un KV1 Che anche lui vuole morire E ora mi sa che farà boom 3 2 1 Boom Ciao bello 8 kill Medaglietta Red Bay Waters Haha E ora andiamo a vedere i risultati di fine battaglia ragazzi Ok ragazzi Eccoci qui i risultati di fine battaglia Ovviamente una fantastica vittoria per il mio BDR Che è stata Diciamo anche una partita abbastanza Senza grossi problemi A parte l'ultimo scontro contro l'OI Prima che io riuscisse ad andare dietro la casina Lì mi sono cagato alquanto Ma prima Diciamo che non ho avuto grossi problemi in tutta la battaglia 44.000 server di guadagno 1890 di esperienza Medaglietta abbiamo la fenomeno Bellissima Fire for effect La bellissima Red Bay Waters Guarda che figa Per aver fatto almeno 8 kill Medaglietta Incalibur E Top Gun Quindi ho preso anche la medaglia Asso Ovviamente Ovviamente Il team score ovviamente messo per esperienza Ho fatto più di tutto in tutto Eh si Danni un botto Kill un botto Esperienza un botto Bene 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 Dettaglio dettaglioso Possiamo vedere che ho fatto 17 colpi sparati 14 assegni 13 penetrati Non male Non male Poteva essere qualcosina in più Ma non ci lamentiamo Dai 2300 danni Soprattutto fatto su livelli 6 Che è una gran cosa questo per farmare esperienza Colpi ricevuti 2 Penetrati 2 Eh purtroppo la corazza del BDR non è sempre così Fantastica Silver guadagnati in 40.000 più o meno Quindi un ottimo guadagno per questo tier 5 pesante Non premium È un carro non premium Che però regala davvero tante 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 soddisfazioni E che dire ragazzi Questa è un'altra battaglia fantastica con i BDR E come dice il titolo del replay BDR comanda By Carrito Smelis E quindi ragazzi Per questo video è tutto Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate del BDR Ovviamente se dite qualcosa di negativo Vi bagniamo Eh questo è ovvio Questo è ovvio Ebbene ragazzi Mi raccomando Iscrivetevi su Telegram E ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi